Un festival del cibo da strada che faccia del centro storico di Gualdo Tadino per tre giorni dal primo al 3 luglio un luogo d'attrazione per gli amanti della degustazione. È la prima edizione dello Street Food and Music Festival presentato stamani presso la residenza municipale alla presenza tra gli altri del sindaco Massimiliano Presciutti, dell'assessore Emanuela Venturi, dei commercianti del centro storico che promuovono il festival, rappresentanti da Nando Vezzola e Stefania Fumanti dell'associazione Street Food and Music che organizza l'evento. Cibo di strada dunque portato nelle vie della città da dieci food trucks, tra i migliori nel settore che si dislocheranno lungo Corsa Italia. Intorno a loro musica con concerti live dal pomeriggio di ogni giorno fino alla notte con la presenza del batterista storico di Vasco Rossi, Daniele Tedeschi. Piazza Mazzini ospiterà un'area dedicata ai bambini con giochi e animazione, mentre le vie che da piazza scendono lungo l'acropoli vedranno la presenza ormai consueta per ogni primo sabato del mese della mostra Mercato del Vintage dell'Antiquariato. La perla è la mostra alla chiesa monumentale di San Francesco, dedicata ad Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi, che resterà eccezionalmente aperta nei giorni del festival fino alle 24. Oltre 50 le attività commerciali che partecipano allo Street Food and Music Festival, non solo del centro ma anche della periferia, dimostrando l'espandersi di un dinamismo nato circa un anno fa da pochi commercianti, ma divenuto in breve tempo prodigiosamente contagioso.